L'occasione per fare gli auguri di Buon Natale a tutti i cittadini, ma non soltanto ai nostri cittadini, ma anche ai tanti turisti che in questi giorni stanno attraversando le vie della città. Una città che abbiamo reso più bella e più luminosa che mai. Si respira un'area di festa, ma anche in quest'area di festa il saluto, gli auguri soprattutto vanno anche a tutti quelli più sfortunati, a quelli che si trovano in condizioni di difficoltà e di disagio, anche a quelli noi cerchiamo di star vicini come amministrazione, anche a quelli cerchiamo di dare delle risposte, è evidente che in questo clima di festa ognuno è giusto che anche pensi agli altri. Auguri, Buon Natale!